Un'iniziativa significativa ancora una volta patrocinata da Lions Club di Civitavecchia e Santa Marinella Host. Allora dite che cosa si tratta, i protagonisti saranno i giovani. Senz'altro, questo è uno dei nostri service che ci piace di più perché è riporto ai giovani e soprattutto alla creatività dei giovani. Si chiama il poster Per la Pace e mai è stato così attuale questo service. Noi premiamo questi ragazzi anche con dei premi così simbolici ma che possono riportare nella loro vita e ricordarsi naturalmente questo momento. Il tutto è fatto dal amico socio Franco Ceccotti che fa questo service da 29 anni e non dico altro. Quindi è un grosso risultato. Naturalmente anche per la fondazione che ci ha dato il suo supporto per questa realizzazione. Allora torna questo riconoscimento ai giovani più merettevoli naturalmente. Quindi si diceva un omaggio simbolico ma proprio per sottolineare il valore comunque dei due temi collegati. Quello della pace che oggi è particolarmente significativo ma anche collegato col mondo giovanile. Quest'anno tutte le scuole cittadine anche Tolfa e quelle di Tolfa, Lumiere e Santa Marinella anche quest'anno hanno partecipato a questo evento. Quest'anno abbiamo avuto anche la soddisfazione come l'altro anno di avere nel distritto un vincente che è di una scuola a cui cittadine è il risultato primo classificato nel Lazio. Poi gli altri disegni prodotti nelle altre scuole di Civitavecchia, Tolfa e Lumiere e Santa Marinella hanno avuto tutti dei premi per incommi per originalità dei disegni svolti. Il poster per la pace è un concorso che la fondazione segue da oltre dieci anni, concorso indirizzato ai ragazzi delle scuole medie che li invita a riflettere su tutti i temi della pace, della solidarietà, dell'uguaglianza attraverso l'arte che è quella della pittura, del disegno. Tutte le scuole avranno la soddisfazione di avere un premio, ma la soddisfazione più grande quest'anno sarà quella che tutti i disegni vincitori verranno riportati su delle mattonelle che andranno a decorare una facciata dell'ospice oncologico di Perugia. Come d'altronde noi stiamo cercando di fare a Civitavecchia, al nostro centro per le cure palliative, dove proprio la fondazione ha fatto sì che potessero far pitturare le pareti dell'edificio che già inizialmente e ancora non è completato, ti danno una gioia, un modo diverso di affrontare luoghi di quel genere.